Il film del film Cosa? Perché stava con il cellulare? Non ha capito niente No, 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 torna indietro Azione No rifa Non mi piace Spontanea Non guardare in camera Cosa del genere Azione Cazzo vai Alzano un po' Il foglio Azione Studio notarile Cotti Govelli Barutti La signoria vostra È invitata a mettersi in contatto Con lo scrivente Studio notarile Per la lettura del testamento Ologiato Olografo amore Azione Studio notarile Cotti Govelli Barutti La signoria vostra È invitata a mettersi in contatto Con lo scrivente Studio notarile Per la lettura del testamento Scusate Sì, devo capirci qualcosa di più Dai Lo chiamo E prego un appuntamento Chi va? Un tè? No Scusate Sì, devo capirci qualcosa di più Sì, devo capirci qualcosa di più Sì, devo capirci qualcosa di più